C'è tutto il mio nome è Tony Vallini, sono off-label e sono qui per introdurre la mia prima biblioteca di preset che ho fatto per il titolo di successo del virus di successo. La biblioteca è completamente pacchita con 127 preset, che è costruibile per la vostra produzione di Psytrance che ho creato da scuola e iniziato da basi. La mia biblioteca è molto semplice da utilizzare e molto semplice da applicare, quindi puoi modulare facilmente ogni preset e creare il vostro sonno iniziato da basi solidi. Let's take a look. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.